ciao misici ragazzi in recensione con la moglie di questi vasetti ecco inquadratura generale della finestra e di questi vasi presi su amazon davvero molto allegri molto colorati allora Daniela parlaci di questi vasi arrivano praticamente tutti infilati sono tanti di tutti i colori e poi hanno i manici a parte che si portano con molta facilità quindi se sono tutti infilati dieci vasetti perché sono dieci vasi occupano poco spazio li potete usare così appoggiati dove volete oppure appenderli ecco però ha la caratteristica di tutti i vasi che sono vasi che si possono appendere quindi vediamo su una finestra grade ma chiaramente basterebbe anche un'asta tipo quelle che sono in cucina o magari dai che l'abbiamo viste l'abbiamo viste verniciati di nero un'asta qualsiasi si possono appendere allora dammelo un attimino che lo zoomiamo allora ne esistono su amazon di due diverse dimensioni questo è il formato un po più grande e questo qua invece è il formato un po più piccolino allora li vediamo vicini uno all'altro ok più grande più piccolo i bastoncini sono in metallo verniciati con questo tipo di verniciatura e il tipo di metallo mi dà l'idea che possono resistere tranquillamente alle intemperie perché non dà l'idea di essere un metallo che si arrugginisce sembra di alluminio sì credo che resista abbastanza perché poi non ha punti dove si può arrugginire giusto forse in fondo ah vediamo in fondo in fondo è presente il buco no vediamo allora ragazzi non è un porta vaso ma è un vaso quindi voi potete mettere direttamente la terra esatto non dovete fare come ho fatto io qui per sbrigarmi esatto fai vedere le spezie che mi ha portato massimiliano ecco qua ok quindi quindi il lavoro che farai è togliere aggiungere la terra mettere direttamente la zolla tutto tutta la faccio vedere quello che farei vediamo proviamo a farla adesso gliela fai intanto uno in diretta mentre facciamo in diretta mentre daniela tatta facendo sta cosa qua apprezziamo ancora meglio i colori eh cioè i colori deliziosi sono questi pastellino guardate nell'insieme questi pastellini parliamo anche del ecco qua hai tolto vediamo la tua operazione la metti dentro ma io penso che non devi fare nient'altro niente perché questo è la misura giusta un po' di respiro si è la misura giusta eccolo qua vabbè puoi continuare a fare questa operazione qua adesso abbiamo anche il basilico quindi potrebbero essere stati tranquillamente anche da interno a parte questa è una specie di gazebo siamo coperti però è anche da interno anche da esterno il prezzo mi sembra che l'abbiamo pagati i 10 grandi intorno ai 40 euro o 40 euro e qualcosa 44 non mi ricordo e quelli piccoli intorno ai 20 euro quindi andando a calcolare con questo calcolatore elettronico che ho incorporato questo potresti metterlo centrato su questo in modo che è simmetrico ok allora per calcolare dovrebbero costare intorno ai 4 euro i spedizione compresa i vasi grandi a baso 4 euro a baso e i vasi piccoli intorno ai 2 euro a baso per i vasi piccoli ok allora visto che ci siamo facciamo anche l'operazione con il timo dico bene Dania questo è il timo? questo qui è il timo ok quindi questi semplicemente quelli là presi da dal vivaio insomma da quelli che vendono le piante e semplicemente si mettono dentro e abbiamo ecco questo fattore diventa veramente un abbellimento anche estetico invece le spezie è un basetto un basetto di spezie ah potiamo vedere tanto il resto della parete? questo è sofferente gli da un po' di acqua ok questa è una soluzione diversa per utilizzare la parete come portavaso quindi in questo caso la parete l'abbiamo utilizzata semplicemente usando mensole vedete anche qui legno riciclato o queste vecchie mensole della cameretta di Alessandro ma in questo modo abbiamo potuto tenere molti vasi usando usando il verticale eh Daniele perché questi prima eravamo molto più sull'orizzontale quindi questi molti vasi andavano andavano appoggiati a terra e invece la parete non era non era utilizzata no questa è tutta un'altra cosa qui c'erano solo foglie eh sì qui c'erano foglie era più diciamo naturale e adesso abbiamo sfruttato un po' di natura un po' e un po' e un po' è un po' mix eh sì vediamo anche quest'altra vedete che abbiamo anche l'altra finestra con quest'altra finestra se ci va e com'è vista da dentro vogliamo fare faccio un'inquadratura vista da dentro eh da dentro caso perché qui dentro abbiamo una camera da letto noi da fuori stiamo guardando dentro devo dire una cosa da quando abbiamo questi vasi teniamo la finestra molto più aperta perché è proprio un piacere aprire la finestra vediamo eh eccolo qua eh questo è quello che si vede da dentro verso fuori e quindi sta a botta di colori è carino così ma forse secondo me ci sarebbero bene pure altri altri dieci vasi altri cinque vasi perché perché la pista fuori c'è ma i colori mi piace molto che sta botta di colori che ne dici tu Alessa se fossero ancora di più no 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 giusto giusto un po' sopra però qua è perfetto sotto no no tu dici il giusto è così eh ah beh comunque a me mi piace molto io potremmo via pure altre dieci e poi magari mettere nella finestra del bagno che non c'è niente ancora e magari decidiiamo se metti solo altre due altre tre tu che dici Daniele? prendili tanto poi stanno bene esatto ma tu che prenderesti tu te buttaresti sul grande o sul piccolo? sul grande guarda poi il grande devono 10 euro di anni un'altra 40 euro guarda che carina qui c'è la zanzariera vedete però è carina qui è bella anche qua su guarda io posso pure definire tutto mettiamene un po' altre due tre sopra vediamo sopra due tre dai facci vedere facci vedere come potrebbero essere io ce li vedo carini eh metti metti io li vedo pure io carini mi sembra molto carino la vede? bello c'è la zanzariera aspetta che andiamo a vedere mettili più fitti vediamo un po' più fitti perché per capire quante se ne possono mettere non è più figo è figo anche tanti anche tanti sì sì e qui 10 10 10 spariscono guarda tra quelli che potevo mettere qua là c'è abbiamo l'altro bagnetto ci puoi fare eh sì tanto ah ho un'altra idea guardate io avevo fatto questa qua c'è questa retina che non utilizza a parte c'è un altro modello ecco retine stavo pensando ecco vedete qui c'è il tubo dell'aria condizionata di poterla fissare in alto con due stop se scende la rete qui fare un'altra fila dove metterne altre 5-6 o magari qua su questa che è una nostra specie di serra rivaio vedete qui c'è la serra eh qui creandomi un appoggio fare a parte questa si potrebbe anche no vabbè bucarla direttamente è un peccato è un peccato però si potrebbe si potrebbe creare degli appoggi e rivestire anche delle superfici meno carine a forza di vasi bene allora giudicato ne compro altre 10 ne compro altre 10 di queste grandi vi metto il link amazon se possono nei commenti o nella descrizione del video da tutte e due le parti in maniera tale che se volete andate a vedere se ci sono offerte ti piace così? ci ho messo queste hai messa simmetrica centro centro ok ok so provare è carino se non si può mettere così per essere simmetrico questo è un po' questo è simmetrico e questo per essere simmetrico così tanto un secchio muove eh si potrebbe muove ma tanto rimane sempre lì sì va bene bene altre 10 altre 10 saluta mitica ciao